Parliamo di sport, di calcio di Serie C, dei play-off. Domani il Pescara affronterà l'andata del primo turno contro Feralpi Salò. L'allenatore biancazzurro Luciano Zauri questa mattina ha incontrato la stampa. Per noi c'era Enrico Giancarli. Buon pomeriggio Enrico. Cosa ha detto Zauri? Ciao Gigliola, buon pomeriggio. Un saluto a te e a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Dall'appoggio degli Ulivi si è svolta qui la rifinitura non allo stadio triatico in vista del match. Terzo turno play-off, prima fase nazionale. Domani ore 19 la gara della Pescara contro la Feralpi Salò. Poco fa ha parlato in conferenza stampa il tecnico Luciano Zauri. Naturalmente indisponibili Frascatore e Drudi per infortunio. Indisponibile Eugenio Dursi che sconterà la prima delle due giornate di squalifica. C'è la speranza di poterlo riavere per la gara di ritorno con il ricorso. Ma intanto domani sarà assente, certi di una maglia, i Gianess al posto di Drudi e Rauti. Al posto di Dursi il ballottaggio è quello tra Cernigoi e Ferrari nel cuore del reparto offensivo. Con Cernigoi che appare comunque favorito rispetto a Franco Ferrari. Per il resto non dovrebbero esserci novità di formazione. Andiamoci ad ascoltare allora con le immagini e il montaggio di Diego Martelli i passi salienti della conferenza stampa del tecnico Zauri. Buongiorno mister, come sta la squadra? Se c'è qualche indisponibile a parte Drudi e Dursi che è squalificato e questo ballottaggio Cernigoi e Ferrari che cosa ci puoi dire? Allora no, nessun problema da questo punto di vista, dal punto di vista fisico stanno tutti bene, quindi trascatore, insomma i noti. I noti, da questo punto di vista nessun tipo di problema. Il ballottaggio me lo porto, però stanno bene, franco è entrato benissimo l'ultima partita, Iago ha fatto una grande partita e qui insomma abbiamo un'arma in più nel nostro arco. Che pescara ti aspetti con un avversario, insomma un avversario di rango, una squadra quadrata, insomma il girone A ha fatto molto bene. Insomma, poi tra l'altro non sarà più una partita secca, sarà una sfida da vivere nei 180 minuti, come insomma, come pensate di affrontare questo primo round? Beh, allora sì, 180 minuti ok, però è chiaro, come si dice, ragioniamo partita per partita, no? Adesso abbiamo questo primo round appunto dove ci andiamo a misurare con una squadra che ha fatto molto bene nel proprio girone. Una squadra tonica, fisica, dinamica, non a caso è arrivata terza, per cui una squadra che sicuramente è in palla. Ha avuto due partiti in meno nelle gambe, che non è un dettaglio, ma noi siamo pronti, quindi niente alibi come al solito. Noi ce la giochiamo alla grande, siamo una squadra forte, però è chiaro, sarà sempre quel campo a dire la sua. Luciano, dal punto di vista dell'aspetto difensivo, i numeri dicono che il Pescara, mi limito a questi play-off, ha subito quattro gol in due partite. Chiaramente sono troppi, se vuoi pensare di andare avanti, quando poi arrivano altri tipi di avversari. Come stai lavorando per cercare di ridurre queste situazioni negative in fase difensiva? E poi hai sempre detto, mi piace cambiare il meno possibile. Confermi questa linea anche per domani, visto che comunque Veroli ha fatto molto bene, ma anche Enzita, tu dicevi di Ferrari prima, anche Enzita nel secondo tempo è entrato, secondo me, con il piglio giusto. Sì, hai parlato di giocatori che sono stati dentro, nelle ultime partite, no? Sia che si erano partiti all'inizio, che poi i vari subentri. Quindi sia Enzita, che era partito titolare la volta prima, invece nell'ultima partita poi è entrato. Per cui sicuramente giocheranno giocatori che hanno partecipato in ultime gare con continuità. Quindi da questo punto di vista sono costretto a cambiare, forza maggiore, per quanto riguarda Drudi, per l'infortunio. Però in generale, ripeto, andranno in campo giocatori che hanno giocato in ultimo periodo assolutamente. E l'aspetto difensivo? Ti dico di sì ovviamente perché siamo qui apposta, attraverso le solite cose. Quindi analisi video, parlando con i ragazzi, motivandoli, incoraggiandoli a fare sempre meglio. Sono le solite cose. Non c'è una bacchetta magica se non lavorare su aspetto mentale e, ripeto, facendogli capire quanto sono forti. Perché questi ragazzi sono forti, secondo me, ma va sempre dimostrato. Però, secondo me, già partendo da una base che è la loro qualità innata, è già un buon punto di partenza. Luciano, un fattore importante potrebbero essere anche i sette giocatori diffidati. Io guardavo Rauti e Clemenza, che in teoria dovrebbero essere i giocatori per domani, entrambi sono ammoniti. Visto che si decide molto nella gara di ritorno e non ci sarà neanche Dursi, a meno che non venga accolto il ricorso, potrebbe giocare uno dei giovani subito per preservare anche la gara di ritorno da eventuali squalifiche? Non sto ragionando in questo modo, quindi ragiono per avere la squadra che, secondo me, domani sarà la migliore. Per cui non ho fatto nessun tipo di calcoli. Manderò in campo chi, secondo me, ha le caratteristiche migliori per poter far male alla squadra avversaria. Quindi, da questo punto di vista, non ho fatto nessun tipo di valutazione. Quale sono le stile della squadra avversaria che si vota per pescare a guarda? Adoro sono una squadra che, ripeto, è molto organizzata, molto forte. Mi baso sulle mie qualità, quindi spero che chi vada in campo metta in campo le proprie caratteristiche, che sono tantissime, quindi al di là della squadra avversaria, che ripeto, è una buonissima squadra, ma noi abbiamo tante caratteristiche proprio innate per poter far male all'avversario. Una dove potete far male? Sicuramente abbiamo la qualità per sfondare, per esempio, sugli esterni. Possiamo fare bene sugli esterni, considerando anche il loro modo di stare in campo. Sugli esterni bassi, quando ha giocato Veroli c'era sempre Zappella, quando invece giocava Anzita o Frascatore c'era Cancellotti. Questa è una tua caratteristica, nel senso un esterno più bloccato e uno che ha più caratteristiche offensive, o se ne potrebbero vedere anche due con caratteristiche offensive? L'ultima cosa, e non c'entra la partita di domani, in una delle tue prime conferenze hai detto possiamo fare sia il 4-3-2-1 che si sta facendo ora, sia il 3-4-3, ma io ho in mente anche un terzo modulo che vedrete, forse più avanti, è il 4-2-3-1 per caso? Sono due, sicuramente è un 4-2-3-1, ma anche un 5-3-2 con caratteristiche ben precise, con una mezzala magari più offensiva, però purtroppo la teoria spesso va a cozzare con la pratica, per cui un conto è magari avere in mente delle cose, però poi si fanno ad affrontare i discorsi magari quotidiani e tanti magari scemano di per sé. Per il discorso dei terzini no, ho avuto dei giocatori entrambi offensivi, è importante che il difensore faccia il difensore quando deve difendere e attacchi quando deve attaccare, per cui se abbiamo dei giocatori che possono spingere entrambi, benissimo. Nel calcio, da quando giocavo io ad oggi, spesso un attacco e uno difende, per cui dobbiamo essere equilibrati nel discorso di prima a non farci trovare scoperti quando perdiamo il pallone, l'importante è avere un equilibrio nelle due fasi. Grazie. Queste dunque Gigliola, le parole del tecnico biancazzurro Luciano Zauri, se non ci sono domande io ti restituisco la linea, ricordando però i nostri appuntamenti con Massimo Profeta, anteprima Pescara questa sera alle ore 20.05, domani alle ore 19 il fischio d'inizio della gara contro la Feralpi Salò, la gara di ritorno prevista per giovedì a Salò con inizio alle ore 20.30. È tutto dal poggio degli olivi, ti restituisco la linea, a te Gigliola.